Musica Un buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa in questo giovedì 5 dicembre. Come di consueto andremo a leggere i quotidiani di Casa Nostra e non solo partendo dalle prime pagine. Allora iniziamo subito partendo dalle prime pagine dei giornali di Casa Nostra con le quattro edizioni del centro, una per provincia. Questa è l'edizione di Pescara, l'apertura è dedicata ai rifiuti, via i cassonetti dalle strade, rivoluzione a Pescara nel servizio dal 2020 in centro e a Porta Nuova. Ovviamente in alto il richiamo è alla tragedia di Rigopiano, il giudice, ecco perché i politici sono fuori motivi dell'archiviazione. Nei box il sito di Bussi, Legnini dice la bonifica va fatta subito e poi il vice ministro Mauri daremo più agenti alle città dell'Abruzzo. Scendiamo a centropagina, la fotonotizia dedicata allo sport e all'Edian Memushai, al centro la con il Pescara e il Mondiale in Qatar. La mezzala biancazzurra è in visita in redazione, ha fatto un po' il punto nel 2022, avrà 36 anni e vorrebbe arrivare al Mondiale in Qatar proprio con la sua Albania. Nelle cronache, Straccia, ricorso della famiglia come leggiamo è stato ucciso, i familiari di Roberto Straccia, studente morto nel 2011, fanno ricorso contro l'archiviazione nell'inchiesta per omicidio disposta dal GIP. A Francavilla, Luciani tenta di ricompattare la maggioranza, il rischio è quello come leggiamo del voto. Incendio sulla 25, furgone a fuoco in galleria, paura a popoli e poi questa bella notizia, gioca un euro e vince un milione, Pescara scommentitore mette a segno l'exploaco, la lotteria. Million Day, ovviamente complimenti. Cambiamo edizione, non quotidiano, sempre il centro, ma l'edizione di Chieti, questa l'apertura, multe record, in 7 mila non pagano, nel 2019 oltre 30 mila sanzioni, il comune a caccia degli evasori. Cambia anche la foto, rispetto all'edizione precedente, i vigili del fuoco sempre in prima linea, 5.600 soccorsi in un anno, festa di Santa Barbara, festeggiata in caserma. Nelle cronache, a Lanciano pochi anestesisti, gli interventi sono a rischio, all'ospedale Renzetti e emergenza anestesisti, le carenze d'organico mettono a rischio gli interventi chirurgici, ma l'Asla assicura, i concorsi sono già stati banditi. A vasto, operaio morto sulla piattaforma, sono 5 gli indagati e poi per lo sport, basket serie B, ESA, i giocatori inducono coach Cohen alle dimissioni. Sotto la foto, autista muore sul pullman dei turisti, Di Marco, 63 anni, di Sulmona, era in Austria con il collega e 50 passeggeri di Pesco Costanzo. L'edizione teramana del centro, arriva il biglietto unico treno-bus, riguarderà le corse dei mezzi tra la stazione e l'università. La foto, Veronesi sul premio Teramo, una manifestazione da benedire, queste sono le parole di Sandro Veronesi, che vediamo nella foto con il sindaco di Teramo, D'Alberto e Renato Minore. Lo scrittore era presente alla cerimonia di premiazione. Nelle cronache, venduto all'asta il residence del crack di Gennaro. Ad Atri, muore di Ixus a 58 anni, donati fegato e cornee. A Notalesco, Speed Scout, accolti ricorsi di 27 che erano stati multati. Qui invece, in basso, come vediamo, riproposta la notizia purtroppo tragica dell'autista morto in Austria. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella aquilana, che ovviamente con questa notizia apre. Muore in Austria autista sulmonese, Di Marco era al fianco del suo collega, come abbiamo visto prima, sul bus con 50 turisti. Ovviamente questa, essendo di Sulmona, Di Marco diventa l'apertura dell'edizione aquilana. A centropagina, il campione Vincenzo Nibali, di nuovo in cura all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Il ciclista torna nel capologo di Regione per il secondo ciclo di terapia del dolore, al quale si sta sottoponendo dopo l'intervento chirurgico. Vediamo che ad accoglierlo ha anche il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Nelle cronache, la talpa buca la galleria per Amatrice. Marana di Montereale, un chilometro e cento metri di galleria a scavare l'abitato di Marana di Montereale. I lavori sono stati avviati ieri sull'Aquila Amatrice. Ad Avezzano, falso allarme, salta incontro genitori scuola. Sindaco di Ovindoli, angelo sante, frase shock sui banchieri. E poi sotto la foto, per hai ucciso parenti in procura all'Aquila, il pubblico ministero ha ascoltato la madre e il fratello della vittima. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sulla prima pagina del messaggero Abruzzo. Anche qui l'apertura, come vediamo, è dedicata a Rigopiano, le colpe degli altri ex governatori politici scagionati. Si aggrava la posizione di comune e provincia. Il GIP si sono adoperati soltanto per far accedere gli ultimi clienti presso il resort. Poi ovviamente vedremo il servizio che fa un po' il punto, anche e soprattutto delle reazioni di questa decisione. L'intervista, il vice ministro dell'interno Mauri, il nostro impegno per le periferie. In alto, sotto la testata, per i trasporti, l'Aquila-Roma, la regione taglia i fondi per gli autobus. Innovazione, accordo tra Teneo e l'Ottomatica per la tecnologia 5G nel capoluogo all'Aquila. Serie B, il sogno della sorpresa Macin, giocare in serie a col Pescara. Ad oggi è il calciatore più duttile ed è il vice cannoniere dopo Galano. Possiamo puntare alle prime posizioni, abbiamo qualità e schemi. Giustiziare i banchieri, Angelo Sante, come abbiamo visto, è nella bufera. Per questa frase evidentemente molto molto infelice. A centropagina, la foto, Titanic, luci e sardine in piazza Salotto. Verso Natale sia la manifestazione tra lo shopping. Sono attese a Pescara circa 6.000 sardine pronte a sbarcare sabato alle 18.30. ma ci sono anche gli addobbi di Natale con il famoso Titanic. Il rischio è di un ingorgo. Per la cronaca, vede l'incidente del padre, lo sciocche fatale. L'Aquila ha morto l'uomo colpito da malore davanti alla macchina distrutta del genitore. E a Colonnella un operaio sotto la motrice. Purtroppo nulla da fare per lui. In basso la storia, lei ama un'altra lei e racconta gli abusi. È stato l'amore per un'altra ragazza a salvare, spingendola a raccontare tutta la storia, la diciottenne aquilana dalle grinfie del presunto violentatore. Andiamo adesso in provincia di Teramo più specificatamente con la prima pagina del quotidiano La Città. Questa l'apertura. Manola lascia stabilizzando i precari. Si chiude il mandato della Di Pasquale all'IZS, istituto zoo profilattico. In alto i box, processo Rigopiano, la rabbia dei familiari dopo le archiviazioni. A Roseto pronta la nuova postazione del 118 a Casa Rosa. A Tortoreto ha approvato il piano dei lavori pubblici. Scendiamo e vediamo la foto. La 45esima edizione del premio Teramo. Il racconto continua. Ieri all'ipogeo la cerimonia riassunta nella foto in basso. La maggioranza a Silvi diserta il Consiglio. Niente numero legale. Salta l'assise sull'erosione. Altri box a colonnella. Inchiesta sulla morte del camionista schiacciato a Valle Castellana. Riaperto il ponte strategico sulla provinciale. Poi anche qui troviamo biglietto unico treno più bus per gli universitari. Teramani. A proposito di festività che tra un po' arriveranno. Niccolò Fabio e James Senese, protagonisti del Capodanno. Il piano in basso ciclabile di Roseto. Il sindaco va avanti ma apre al confronto. E poi Santa Barbara esercitazione e celebrazioni per festeggiare la patrona dei vigili del fuoco. Andiamo adesso sulle testate nazionali per vedere quali sono le principali notizie. Ovviamente ILVA ma anche il fondo salva stati. Ecco qua il Corriere della Sera con la classica doppia apertura. L'apertura di centropagina. Il piano ILVA spiazza il governo. Arcelor Mittal chiede 4.700 esuberi. Il ministro Patuanelli dice passo indietro. I sindacati sciopero. Manovra stretta soft su plastica e auto aziendali. L'Istat nel 2020. Il PIL al più 0,6%. In alto salva stati. Più tempo per le modifiche. Scontro totale. 5 stelle PD sulla prescrizione. E poi la foto. Il delitto di Roma. I quattro misteri di Anastasia. I soldi. Lo zaino. La droga. E i depistaggi. Questi sono i quattro misteri evidentemente. La Repubblica. Ultima chiamata. Alta tensione sulla prescrizione. Di Maio e Di Battista accusano. Il PD vota come Berlusconi. Zingaretti siamo stanchi così non si va avanti. Salva stati. La UE chiude a modifiche. Ma rinvia. L'ILVA annuncia. 4.700 esuberi. E c'è la rivolta dei sindacati. Il caso. Il congresso fantasma della Lega. Prima di Natale. Vediamo di spalle. Poi vertice nato. I leader ridono di Trump. E lui se ne va offeso. Scontro sul 5G. E poi il reportage. Il giorno dopo a Bibiano. Dove l'orco non c'è più. Il fatto quotidiano. Audace colpo di spugna. Dei soliti noti. Zinga. B e i due Matteo. Reati prescritti. Governo condannato. Vediamo anche perché. Il club del tempo scaduto. Tutti i VIP che l'hanno fatta Franca. Il PD minaccia i 5 Stelle. Sul taglio dei 345 parlamentari. Questa è l'apertura del fatto quotidiano. In basso Salvini. Crisi social di mezza età. Da TikTok al guardaroba. Matteo perde colpi. Il giornale. Il cibo italiano fa male. Altro euroschiaffo. Il documento segreto. Così il sistema semaforo. Punirà. Formaggio e salumi. Salva stati. Blindato. Premier nei guai. E poi cos'è? C'è la tassa Benetton. Leggiamo. Bomba i suberi sull'Ilva. I conti che non tornano. Il manifesto. Riserva indiana. Ovviamente con una foto di Taranto e dell'Ilva. Arcelor Mittal. Detta le condizioni per restare a Taranto. 4.700 esuberi entro il 2023. Più della metà dal prossimo anno. I sindacati è un piano irricevibile. Il 10 dicembre sciopero. Patuanelli è deluso dalla multinazionale. Entro lunedì il piano alternativo del governo. Prescrizione. Botto di Capodanno. Giustizia. Di Maio e Conte chiudono alle richieste del PD. La riforma in vigore dal 1 gennaio. Libero. Conte. Barcollo ma non mollo. Una rogna al giorno. Lo leverà di torno. Sulla giustizia. Demme e Renzi minacciano la crisi. Il Movimento 5 Stelle ci sta. Sfasciamo tutto. Intanto l'Ilva annuncia 4.500 esuberi. Vicende professionali. Imbarazzano il Premier. Che litiga con Trump. Governo sconfitto da Francia e Germania. Il salva stati. Non cambia. La foto. Per la sinistra. Le sardine ormai puzzano. Indeboliscono il PD. E non la Lega. E poi l'ultima. Vediamo le analisi. L'ultima carta. Di Maio a nostalgia di Salvini. Studenti. Perché esiste la classe degli asini di Vittorio Feltri. Il messaggero. La prima pagina nazionale. Salva stati. Rinvio dopo lo scontro. Vertice fiume. All'Eurogruppo. Gualtieri tratta. Ma ce lo stoppa. Le modifiche del MES. L'Italia chiede lo scudo sui titoli pubblici. Battaglia tra i 19. Anche sull'Unione bancaria. Il caso Ilva. Mittal vuole 4.700 esuberi. Governo spiazzato. Devono trattare. Omicidio Pecorelli. Sparite le prove della nuova inchiesta. Pochi mesi fa indicata la pistola del delitto. Spariti i proiettili. Impossibile la comparazione. Parliamo dell'omicidio di Mino Pecorelli. Che è datato 20 marzo 1979. La verità di Nastia. Princi mi diede i soldi. La ragazza di Luca Sacchi e PM. Non sapevo dei 70.000 euro. Il sole 24 ore. All'Ilva. 4.700 esuberi. Sindacati in rivolta. Contropiano del MISE. Lo scudo penale. Arcelor vuole immunità. Anche in India. Conte vede Trump. Non mi aspetto dazzi. E poi l'Ires sui concessionari. Sale del 3%. Bancari parte dal piano Unicredit. L'offensiva della Fabi. Contro i tagli. Infrastrutture. Sei commissari al via. Sbloccati 3,5 miliardi per i cantieri. La verità. L'Europa sbugiarda. Giuseppi sul MES. Governo a pezzi. Tra liti e balle. Sberle pure sull'Ilva. La trattativa è già un disastro. La D di Mittal. Noi faremo 4.700 esuberi. La foto. I commissari UE come Don Biancalani. Bella ciao in coro. Renzi rivuole i suoi all'agenzia delle entrate. Quando c'è da fare le nomine. Il bullo si ricorda di essere in maggioranza. In basso. Le balle del PD su Bibiano. Non si fermano più. La revoca dei domiciliari scambiata per fine dell'inchiesta. La stampa. Italia-Cina. Trump spiazza Conte. Il presidente statunitense non farà. Roma non farà intese con Huawei sul 5G. Il premier. Non ne abbiamo parlato. Il vertice della Nato si chiude con l'invito di Xi Jinping ad entrare negli accordi globali sul disarmo. Benedetta. Per lo sport. La baby prodigio del nuoto. ha 14 anni. Oro nei 50 nana. Bravissima agli europei. Benedetta. Pilato. Doccia fredda sul governo Mittal. 6.300 esuberi all'Ilva. La trattativa comincia con un braccio di ferro. Il tempo. Il pasticcio del MES. Conte ne ha sparata un'altra. Il premier giura che di salvastati il precedente governo aveva discusso il lungo e il largo. Ma il suo ex ministro Moavero lo gela. Qualche accenno qua e là. Ma un confronto vero. Mai. E poi Anastasia non la racconta giusta. I 70 mila euro non sapevo di averli. Nell'interrogatorio davanti ai PM la fidanzata di Sacchi cade dalle nuvole. Io e Luca estranei alla droga e il giallo della caffarella si complica. Il secolo XIX. Trattativa ex silva. Falsa partenza. Arcelor vuole 4.700 tagli per restare. Manovra protesta nei porti. Cade la tassa sui container. Ma rincara l'addizionale sulle concessioni. E poi come vediamo anche qui in alto. Pilato e Carraro. Rana magica. L'Italnuoto si esalta agli europei. L'avvenire. Clima. Basta parole. Il Papa. La COP25 di Madrid. Risposte deboli dal mondo. C'è ancora tempo. Una ricerca shock. L'Italia è il sesto paese per vittime dovute a disastri ambientali. Nel nostro paese 20.000 i morti dal 99. Rallenta la crescita delle emissioni pericolose. Scendiamo. Messe. La UE chiude. Ma rinvia. E il governo litiga ancora. Sedio a Conte del Movimento 5 Stelle. Il Premier incontra Trump alla Nato. Tensione sulle 5G. Corridoio Vaticano. Da Lesbo. 33 profughi liberati. Andiamo adesso sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Quanto vibra Milan conto alla rovescia. Che attesa perché tutto porta al sì. Ovviamente il sì di Zlatan Ibrahimovic verso il rosso nero. Un ritorno al rosso nero. Le parole dello svedese alimentano l'ottimismo. La risposta ufficiale. Entro dieci giorni. La sfida gigante. Vediamo a fianco. Lukaku e Smalling da amici a Manchester. A nemici a San Siro. Domani sera c'è Inter Roma. I due colossi contro. Ansu Fatih. 17 anni. Gioca nel Barça. E pensate avrà una clausola. Avete letto bene. Da 400 milioni di euro. Ansu Fatih. Che sembra destinato ad una grande carriera. Poi vedremo se sarà così. Non sempre accade. In alto. L'età dell'oro. Pilato. Reginetta del nuoto. A 14 anni. È solo l'inizio. Gli europei in Vasca Corta. Incoronano subito. Benedetta. Nei 50. Rana. In basso. Altre notizie che riguardano il calcio. Napoli. Ritiro fino alla Champions. Juve. Chiedira fuori tre mesi. Adesso serve il vero Emre Can. L'Udinese. Basta un tempo. Questa è la Coppa Italia. Bologna fuori. Cinquina. Spal. Poi il presidente UEFA. Seferin. Attacca. Lavare un casino. Fuori gioco. Oppure con un naso. Il Corriere dello Sport. Si proietta già domani sera a Inter Roma. Black Friday. Lukaku Smalling. Ex compagni allo United. E oggi idoli di Inter e Roma. Ecco la sfida nella sfida di domani. Scudetto e Champions in offerta. Hanno imparato a stimarsi. Hanno preso posizioni forti contro il razzismo. Sono i simboli di due squadre che rispetto all'anno scorso hanno otto punti in più. E non vogliono perderli ovviamente. Di spalla è un Seferin Novar. Cambiamo il fuorigioco. Il presidente dell'UEFA attacca la tecnologia. Toleranza di 10-20 cm per posizioni irregolari. In basso. Chedira. Fuori tre mesi. Il tedesco operato al ginocchio. Rientro presto a marzo. Sabato la Lazio. Inzaghi dalla scossa. Serve la partita perfetta. Bologna e Lecce escono male dalla Coppa Italia. E poi vinco mentre studio Marquez. Le parole del giovane campione mondiale della mototrae Lorenzo. Dalla porta. Chiudiamo con Tutto Sport che preannuncia che sarà un 2020 boom. Milan e Ibra adesso è solo questione di soldi. Juve e Chiesa. Emrecian apre pista per avere il viola. Intermertens. Lukaku lo chiama insieme a Vertonghen. Vi svegliamo i piani segreti del mercato che verrà. In basso il retroscena. Mazzari-Zazza-Kellite. Rottura prima della partita con l'intercessione inevitabile. Coppa Italia alle 21. C'è Cagliari-Stamp che si sono affrontate l'altra sera in campionato lunedì sera. Stasera si replica. Tonfo-Sassuolo spalla scatenata. Juve c'è Ludinese che ha battuto il Bologna. E poi Europei di Glasgow, Nuoto, Pilato, Doro e Rana-Jet. Bene, ci fermiamo adesso. La prima parte si chiude qui. Adesso spazio alle previsioni del tempo. Poi la pubblicità. E poi torneremo insieme per iniziare a sfogliare i giornali abruzzesi. A tra poco. Seconda parte di Mattino 6. Allora, siamo pronti per cominciare a leggere i nostri quotidiani. Sfogliandoli virtualmente. Ovviamente l'apertura. dei quotidiani che leggeremo è dedicata, come vediamo, ripartendo dal centro, alla tragedia di Rigopiano. Ma soprattutto al giudice che dice ecco perché i politici sono fuori dopo le archiviazioni per il GIP Colantonio. va diviso il ruolo degli amministratori da quello dei tecnici riguardo alla mancata realizzazione della carta valanghe. Nessuna richiesta formale di mezzi sgombra neve è stata avanzata dalle autorità territoriali competenti sul territorio di Rigopiano per liberare la strada di accesso al resort. Ma ovviamente i familiari dicono che la lotta continua con più forza. Tanda la decisione del GIP rispetto alle norme. Ma per noi non è coerente con la realtà dei fatti. Foresta vorrei che il processo arrivasse al prossimo step. Quindi al rinvio a giudizio di tutti coloro che hanno contribuito alla morte di 29 persone. Ovviamente Rigopiano è in apertura, come vediamo, dalla pagina di Pescara anche sul messaggero. Rigopiano scontro sulle archiviazioni. La redazione della carta valanghe era compito dei dirigenti. Il GIP con l'Antonio esclude la responsabilità degli ex governatori. I legali delle parti offese contestano la decisione sui politici regionali. Hanno compiti di controllo sul lavoro degli uffici. E poi il verdetto, come leggiamo, sull'opposizione è destinato ad avere effetto sulla sorte del processo madre. La Gerardis sotto accusa per due anni che amarezza, dice l'ex direttore. Il nodo dei soccorsi, come vediamo, l'isolamento dell'hotel non fu evidenziato preventivamente alla regione. Gli avvocati annunciano il contrattacco. In arrivo un dossier sulla gestione delle turbine. È soltanto la prima battaglia. Ora la sentenza in tempi brevi. Il comitato vittime è inaccettabile. Ritenere tempestiva la convocazione del comitato crisi della regione. Il depistaggio. Telefonata fantasma. Oggi Verna in procura. Vediamo anche, prima di fare il punto nel servizio, anche sulla città, la pagina dedicata a Rigopiano. La rabbia dei familiari per le archiviazioni. Delusione tra i parenti delle vittime e superstiti della tragedia. La battaglia va avanti per ottenere verità e giustizia. Allora noi andiamo a fare il punto soprattutto sulle reazioni e le archiviazioni nel servizio di Giuseppe Dintino. I terremoti del 18 gennaio 2017 non hanno causato la valanga che ha distrutto il resort di Rigopiano. A dirlo è il GIP del Tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, che ha disposto l'archiviazione di 22 indagati nell'inchiesta madre sulla tragedia. Immediate le reazioni da parte dei familiari delle vittime e dei loro legali. Questa è un'altra botta a noi familiari, che ci fa sempre il sangue più amaro. Andiamo avanti, non ci fermerò qui. Non è che alla prima sconfitta di questa battaglia ci fermiamo, anzi andremo a testa alta per combattere, per avere la verità e la giustizia. Ieri è stata una brutta giornata per i 24 imputati residui, per cui il prefetto provo, perché un magistrato ha già confermato l'inchianto della Procura della Repubblica. C'è un magistrato giudicante che ha stabilito che alcune tesi della Procura della Repubblica sono fondate. E questo è sicuramente rilevante. Sicuramente il dottor Sarandrea, nel momento in cui dovrà pronunciarsi sui richiesti di invito a giudizio, difficilmente potrà affermare che l'inchianto accusatorio della Procura non è valido e che quindi il terremoto ha inciso e ha provocato la varanga. E se la varanga non è stata provocata dal terremoto e non lo è stata provocata, e adesso l'ha detto oltre la Procura della Repubblica, l'ha detto un magistrato, e allora dobbiamo andare a comprendere che sicuramente vi è un nesso causale tra chi ha consentito che quel albergo stesse lì, tra chi ha tenuto chiusa quella strada, tra chi non ha fatto il proprio lavoro in maniera corretta e la morte delle persone. Ci lascia per questo un momento l'archiviazione di D'Alfonso, perché io e il magistrato c'è un passaggio che non condividiamo, perché si dice che D'Alfonso non era responsabile perché non aveva avuto richieste di aiuto ufficiali prima del 18, quando lui si è insediato alle 15 e 30. Prima di tutto c'è che D'Alfonso conosceva la situazione già dal 12 e poi non si tiene conto che il ruolo di D'Alfonso era diverso, io definirei delle turbine, da quello degli altri, perché D'Alfonso sostanzialmente faceva una sorta di presidente dittatore, decideva lui dove spostare una turbina, dove spostarne un'altra e a questo punto secondo noi dovrà essere valorizzata. Con ogni probabilità i familiari delle vittime ora presenteranno il ricorso contro le archiviazioni. Nonostante il rigetto delle opposizioni noi continueremo ad apportare elementi affinché si abbia un quadro completo. L'organo politico, che è un organo strategico di indirizzo e di controllo, non può non essere responsabile per le omissioni dei tecnici e dei funzionari. Intanto, tra poco più di un mese, saranno passati ormai tre anni dalla tragedia in cui morirono 29 persone. A breve saranno tre anni, con ancora tanto dolore dentro di noi. Andiamo avanti adesso, rimaniamo sul centro e purtroppo con un'altra brutta notizia. Si schianta il bus dei turisti, muore autista di Sulmona, di Marco aveva 63 anni. Sul pullman 50 passeggeri partiti da Pesco-Costanzo, i testimoni una frenata. Quel botto e le urla, un dramma che non dimenticheremo. Tamponamento contro un tir, il mezzo in viaggio da Merano doveva raggiungere i mercatini di Innsbruck. Contusi alcuni viaggiatori, ferita una donna su una vettura. L'intervista al Vice Ministro dell'Interno, Mauri. Daremo più agenti alle città dell'Abruzzo. Il numero due del Viminale, nella vostra regione, immigrati sotto la media nazionale contro le mafie. Al lavoro un gruppo interforze coordinato dal prefetto di Pescara. Le parole di Mauri anche sul messaggero, come vediamo. Arrancitelli, lo Stato c'è, dalle retate alla rinascita. Il numero due del Viminale partecipa alle 17 al Beato Nunzia. Un incontro con amministratori locali, associazioni e comitati civici su politiche urbane, sicurezza e paura. In basso, rapina al supermarket. L'autore finisce in carcere e poi l'abbraccio dei cittadini ai vigili del fuoco in festa. Cambiamo pagina, restando sempre a Pescara, sempre sul messaggero, perché le sardine si stringono sotto il Titanic. Tesi in 6.000 sabato a Piazza Salotto da tutta la regione. Le installazioni di Natale riducono gli spazi. Il rischio è quello degli ingorghi. Iniziato il montaggio della cupola Iglus sotto le feste, ospiterà spettacoli di teatro, il fantabosco da 150.000 euro. Escluso il delitto, il pentito e inattenibile, il caso straccia in archivio. Poi mille utenti senza luce per un guasto alla rete, sotto disagi sulla 25, bussi segnaletica più chiara, ma casello chiuso fino al 31. E poi il panico in galleria, un furgone a fuoco tra bussi e popoli. Provvidenziale l'intervento di un ciclista. Torniamo sul centro con le parole di Franceschini. Munda sarà museo autonomo. L'ex sottosegretario Vacca e Sulta, grazie anche al mio lavoro, la soprintendenza dell'Aquila è salva. Andiamo a pagina 11. Legnini, bussi ci preoccupa. L'opera di bonifica è urgente. Via le prime audizioni in commissione con Chiavaroli e il sindaco Lagatta. Il presidente, anche il sito di Bolognano, è un rischio per l'ambiente e la salute. L'iter giudiziario, assoluzione e prescrizioni, resta la causa civile. Trasporto locale, corse senza bando, la regione spieghi, sono le parole del consigliere regionale di 5 Stelle Pettinari. La rivoluzione nel servizio rifiuti a Pescara dal 2020, niente cassonetti, nelle vie del centro e a Porta Nuova. Dall'anno prossimo, porta a porta nelle zone ancora escluse, a Piazza Salotto, una soluzione senza mastelli. L'obiettivo del Comune è portare la differenziata dal 46 al 60% entro due anni e mezzo. L'inchiesta archiviata, un'altra pagina, straccia la famiglia, non molla, è stato ucciso. Faremo ricorso illegale dei genitori. Contesta le conclusioni del GIP che ha ritenuto inattendibile il pentito calabrese. Secondo il giudice non c'è alcuna prova che lo studente di Moresco fu vittima di uno scambio di persona. Le sardine in arrivo in Piazza Salotto da tutto l'Abruzzo, sabato a Pescara. Il primo raduno a partire dalle 18.30 a Spinelli. Staremo stretti, ci saranno iniziative in altre città. In basso, l'ex magistrato di Mani Pulite, Gerardo Colombo, parla di carcere e perdono, ospite oggi del convegno del Rotary. In tribunale, arrestato dopo la rapina al Market in cella a un 47enne pescarese, aveva assaltato un negozio di Via Ravenna e rubato merce per 100 euro. i dipendenti del negozio erano stati minacciati con un taglierino e poi la fuga in bicicletta. Pescarese vince un milione con un euro. Exploà con l'estrazione della lotteria Million Day, biglietto giocato in una tabaccheria, il terzo colpo in un mese in città. La festa di Santa Barbara, riconoscimenti a 27 vigili del fuoco, premi ai vigili eroi, parate, simulazioni e la messa di Valentinetti. A Montesilvano, in corso Umberto, casa per famiglie in difficoltà, il nuovo servizio del Comune a Santa Filomena. Ok della Giunta, da gennaio 2020, la Casa della Solidarietà, ospiterà Nuclei Montesilvanese e Senzatetto, il sindaco De Martinis, con le associazioni e la Carisas, cercheremo di avviare percorsi di reinserimento. Il blackout, intanto, guasto elettrico, mezza città al buio, decine le proteste. Foto e cuori di fiori, città Sant'Angelo, piange il suo Matteo, folla in lacrime alla cerimonia di addio a Martellini, morto domenica sul Gran Sasso. Era uno spirito libero. A Francavilla, maggioranza spaccata, ultima chiamata di Luciani, dopo il no di Campli a rientrare in Giunta, arriva un'altra offerta dal sindaco, doppio assessorato a Spacca e a Cettella, alleanza democratica, fuori Marinelli. Vedremo, insomma, gli sviluppi di questa crisi in Comune a Francavilla. L'incendio sulla A25, furgone a fuoco in galleria, panico e fumo fino a Popoli, il conducente è riuscito a portare il veicolo in fiamme fino all'uscita del tunnel sul posto, vigili del fuoco stradale 118. Circolazione rimbristinata dopo due ore. Vedete, insomma, quelle che sono le condizioni del furgone distrutto dalle fiamme all'interno della galleria e i soccorsi, ovviamente, tempestivi. Il caso Autovelox finisce dal prefetto Bussi, ricorso del comitato Protrignina e 30.000 verbali. Vanno ritenuti nulli. E questo è il tratto della statale 153, dove è posizionato l'Autovelox. Andiamo sulla pagina di Chieti, tragedie in mare, chiusa l'inchiesta, morto sulla piattaforma, cinque indagati, vasto, contestato all'omicidio colposo per l'incidente a largo di Ancona, in cui è rimasto vittima un operaio san salvese di 63 anni. Egidio Benedetto, per lui dall'ultimo giorno di lavoro la gru è finita in acqua, perché secondo il PM i punti di ancoraggio erano ormai usurati. Ragazza sotto shock, sotto accusa per omicidio stradale, la procura chiede il rinvio a giudizio della studentessa di 24 anni che investì ed uccise un'ex maestra. A Chieti, maggioranza bocciata, niente bus, fino a Megalò, la coalizione si spacca, non passa la delibera di Colantonio sul trasporto urbano. L'assessore dice, mi sento tradito da Forza Italia e anche i suoi rifiuti vincono i ribelli. La senatrice Liliana Segre, cittadina onoraria di Chieti, i politici qui non litigano sul riconoscimento. Pochi anestesisti, interventi a rischio a Lanciano, il consigliere Tardiglieri protesta, la ASL replica, i concorsi sono già stati banditi. A Teramo, l'accordo, biglietto unico, treno bus per l'università, l'iniziativa parte domani, riguarderà 36 corsi tra la stazione e il campus. L'obiettivo è estenderla ad altre zone, accordo, come vediamo, tra Trenitalia e Baltour. La linea 9, il trasporto in città per Villa Pavone, sarà attiva tra una settimana. E poi l'addio all'istituto zooprofilattico di Pasquale, sarà acquistata la sede a Pescara. Poi ne parleremo anche con un servizio più approfonditamente. Muore di ictus, 58 anni, donati fegato e corne, atri, primo espianto al San Liberatore dopo 5 anni, grazie all'ok dei familiari, un trapianto è già stato effettuato in Amiglia, Romagna, e il ricevente sta bene. A Silvi, tributi locali, da oggi sarà possibile pagarli online. A Pineto, erosione, Fratelli d'Italia contro il sindaco, pensi a lavorare in silenzio. La pagina aquilana, la talpa, buca la galleria di Marana, matrice più vicina in superstrada. La messa con la statua di Santa Barbara, celebrata con gli operai, l'imprenditore Toto e i tecnici Anas, 100 persone al lavoro per aprire il varco, il tratto di un chilometro, sarà pronto entro un anno. Era un'opera, come vediamo, attesa da decenni. Operaio ucciso a Barisciano, madre e fratello in procura per i familiari, si è rinnovato lo strazio, con il racconto delle ultime ore di vita di D'Amico. Il RIS esamina i reperti trovati in casa, potrebbero contenere un DNA compatibile. E poi a fianco, siamo a Dovindoli, Angelo Sante è sciocchio sui banchieri, se non l'impicchi, puntini, puntini. Insomma, il resto lo capite bene, che non fosse una frase di complimenti per i banchieri. Cambiamo giornale, torniamo sul messaggero a pagina 62 all'Aquila. Lei si innamora di un'altra lei e denuncia il suo violentatore. Si rifugiava dal vicino per fumare, lontano dai genitori. Lui l'avrebbe obbligata a fare sesso quattro giorni a settimana. Poi il coraggio di denunciare gli abusi subiti dopo aver iniziato una storia con un'altra ragazza. Il dramma, vede l'incidente del padre stroncato da un malore. Il 53enne era stato ricoverato all'Utic dove è espirato per complicanze cardiache. Siamo sempre all'Aquila. In basso, prescrizione penalisti contro la riforma e nel box Santa Barbara, vigili del fuoco in caserma per festeggiare la patrona del corpo. Ateneo Lottomatica, accordo, siamo sempre all'Aquila, sul 5G, progetto per la rinascita del polo tecnologico di ricerca. Budget di 100 mila euro per un primo team di lavoro. Servizi e documenti pubblici dal comune e anche via internet sarà coinvolta la rete provinciale di circa 400 tabaccai. Il caso, il terminal di Collemaggio, il Tapirulan, sala nuovo. Cambiamo pagina, una corsa a sindaco, si chiama D'Avezzano, la Lega tira dritto, Deramo, l'avevamo già detto alla collezione, contano i voti e non la ripartizione delle postazioni. Ci sarà rottura con Roma, Forza Italia e Udc si organizzano per le comunali. Fratelli d'Italia punta a raggiungere il primato di voti. Intanto oggi c'è l'addio a Castelli Sangro al maresciallo Cicone, il funerale alle 15. Acchieti, niente bus per Megalò e Centauro, fuoco amico per bloccare la delibera, decisivi voti di Forza Italia contro la rimodulazione delle linee ipotizzata dall'assessore Colantonio, rapporti tesissimi in giunta. Fa prostituire, picchia la compagna e finisce a processo. Le donne sono sempre nel mirino. La senatrice Segre, siamo stati città aperta, anche Chieti concede la cittadinanza a Liliana Segre. Vigili del fuoco, festa tra orgoglio e dolore per gli angeli del soccorso. La sanità, difenda le aree interne, l'ex ministro Rosi Bindi, sulla crisi del servizio pubblico. I tagli hanno spostato l'offerta sulle strutture private, i problemi nazionali si amplificano nel Vastese. Amato, il sistema delle regioni crea disuguaglianza geografica. La tragicalite a Torino di Sangro, uccisa dal marito, oggi i funerali di Luisa Ciarelli. In basso, consegnate le pettorine a 500 angeli del piedibus che vediamo nella foto. Chiede, mi avete cercato? I carabinieri lo arrestano. a Teramo, biglietto unico, bus-treno per andare all'università. Pullman strapiene i studenti a terra, intesa per superare le criticità. Trotta di Trenitalia, corse integrate con programmazione oraria agevole. istituto zooprofilatico, nuova sede e 87 assunti. E poi, in basso, scuole insicure, le mamme protestano il caso. All'ipogeo, premio Teramo, ospite d'onore veronesi, svelati tutti i riconoscimenti agli scrittori. rinviato il lungomare pedonale, siamo a Giulianova, il progetto dalla parte est non prevede la chiusura alle auto, l'assessore di Candido. D'estate però possiamo sperimentare, presto sarà abbattuto il mercato coperto, al suo posto verrà realizzata una grande piazza per il centro operativo. Sempre a Giulianova, progetto integrazione, sport e diversamente abili. a colonnella purtroppo il camion si sfrena e la vittima rimane e muore schiacciata. 53 anni, Giovanni Palestini, padre di una bambina a Valle Castellana. Dopo tre anni è riaperto il ponte terremotato. Andiamo proprio in provincia di Teramo con l'IZS. Manola lascia annunciando i soldi per i precari, il mandato del presidente di Pasquale si chiude con un piano di investimenti e uno per le alienazioni. Scuole e sisma protesta davanti al municipio per il silenzio sugli esiti delle verifiche. Fabio e Senese animano, animeranno il capodanno Teramano, il cantautore e protagonista il primo gennaio in Piazza Martiri veglione affidato alle note del sassofonista. Ed ecco il biglietto unico che ritroviamo anche qui per gli universitari Teramani accordo tra Baltura e Trenitalia per favolire i collegamenti tra la stazione e il campus di Colleparco. Il cielo d'Italia raccolto in un catalogo presentato il volume sulle mattonelle che impreziosiscono proprio il campus universitario. L'emergenza climatica non è più emergenza, nessun passo in avanti da parte del comune dopo l'approvazione in consiglio della mozione ambientalista. La viabilità a Valle Castellano ha riaperto il ponte strategico sulla provinciale taglio del nastro dopo i lavori di un milione di euro per il ponte Castellano che vedete nella foto. via libera al piano dei lavori pubblici la giunta comunale di Tortoreto ha approvato i progetti definitivi per gli interventi su strade ed edifici. Inchiesta sul camionista morto schiacciato la procura sequestra il mezzo pesante che ha provocato la morte di Giovanni Palestini. E poi Orsini 63 siamo a Giulianova il comune si costituisce contro il ricorso al tar dei condomini il 7 novembre la municipale ha comunicato la conclusione dello sgombero i condomini chiedono l'annullamento dell'ordinanza emessa dall'amministrazione e a Roseto invece è pronta la nuova postazione del 118 conclusi i lavori di adeguamento alla Casa Rosa a breve l'apertura del servizio e poi sempre ad altri ritroviamo questa bella notizia nuova vita grazie alla generosità dei familiari di un paziente donati gli organi di un uomo deceduto trapiantato il fegato su un paziente e donate le corne andiamo adesso allo sport ripartiamo con il centro con l'intervista alla bandiera del Pescara Ladian Memushai assist e sogni voglio tornare in serie A e poi il mondiale in Catar il quinto anno in Biancazzurro nel 2022 chiuderò qui la carriera ma primo due obiettivi Zauri mi ricorda molto Oddo dice il centrocampista albanese poi ci sono anche ovviamente alcuni passaggi Albania è nazionale il terremoto brutta botta ma ci rialzeremo e Reia il commissario tecnico dell'Albania un grande dobbiamo avere la fame e la grinta dell'Inter di Conte ma i sazi è sempre sul pezzo intanto si sarà ballottaggio tra Crecco e Masciangelo castrati a un fastidio al piede contro il Venezia dubbi per quanto riguarda il terzino sinistro e invece nella pagina a fianco la 35 Teramo mese da incubo Magnaghi ora tre vittorie soltanto due punti raccolti nelle ultime quattro partite per la squadra di Tedino l'attaccante carica da qui fino alla fine del girone d'andata dobbiamo fare il pieno ci sarà la Vibonese di chi? di Modica come vediamo l'ultimo degli Zemaniani il calcio del Boemo è sempre attuale dice ovviamente il tecnico che è stato per parecchi anni a fianco del Boemo in quattro anni a Celano non sono stati valorizzati per quanto meritavano allenato anche come sapete in Abruzzo e qui lo vedete proprio ai tempi della Roma con Zeman torniamo adesso sul messaggero per leggere lo sport anche qui il sogno di Macin in A con il Pescara leggiamo a 23 anni punta dritto al massimo al massimo il vice cannoniere della squadra dobbiamo ambire a stare lassù in alto e contro il Venezia bisogna vincere bene Palmiero però questo è il notiziario K.O. Memushay farà il regista Castanos la mezzala in basso per il basket Ciri Beni addio Roseto veleno sul coach per il volley la sieco aspetta il grande ex Alberto Cisolla dall'altra parte siamo in casa Teramo che prepara il duello domenica difficile sfida con la Vibonese Magnai sembriamo molli ma siamo forti l'attaccante sprona la squadra dobbiamo prepararci al meglio per cercare di vincere per la serie D si è aperto il mercato Raffaello al notaresco Avezzano arrivano due rinforzi questa è la firma proprio di Raffaello con neoacquisto del notaresco torniamo sul centro perché dobbiamo leggere ancora altre notizie per esempio questa il Casalbordino non brilla ma sale a più nove sulla seconda e poi al Tribunale di Pescara riforma dello sport e la legge 86 convegno venerdì 13 dicembre dall'altra parte per il basket a Chieti la squadra esonera Cohen i giocatori incontrano il presidente chiedono la testa del tecnico che si dimette per Ricci va in panchina tutto questo dopo una vittoria in basso Adriatica Prestera Montanari sabato contro Zano in paglio punti pesanti in casa Giulianova Ciocca stiamo migliorando e il club pensa all'ala Gatti in casa Roseto Bobby Jones sono molto carico Ciri Beni saluta e va a Salerno ultima pagina l'atletica si gode il 2019 Balsorio un anno super risultati ok crescita del movimento e organizzazione di eventi nazionali speriamo di vedere completato leggiamo in fretta il nuovo impianto di Rivisondoli a un anno positivo meno sul piano dei rapporti umani con chi fa sempre è polemica e questo è il bilancio del calendario regionale in 2020 il bilancio in Abruzzo e i numeri dell'atletica abruzzese che vediamo nel 2019 bene questa era l'ultima notizia per questa mattina io vi ricordo la prima edizione del nostro telegiornale alle ore 14 mattino 6 invece torna puntuale domani mattina alle ore 8 è tutto grazie per l'attenzione e buona giornata grazie a tutti